Caro amico, mi ritrovo nel cortile d'ingresso del centro arcado, qui ho imparato a condividere le mie esperienze ed ascoltare quelle altrui, ma anche a suonare con i miei amici che vengono da lontano. Hashtag caro amico, qui è dove ho imparato insieme agli altri a condividere il cibo, a condividere la cucina, a condividere una doccia per lavarci, uno spazio all'ombra dove giocare e dove pranzare insieme. Qui ho imparato a conquistare le strade, a fare le mie e a condividere un pezzo di strada con i bambini. Hashtag caro amico, oggi ho imparato a giocare, a divertirmi e stare insieme agli altri. Ciao, sono molti anni che organizziamo le strade a Scampia, ma da quest'anno abbiamo voluto introdurre un tema. Hashtag caro amico, oggi ho imparato a... Questo tema ci accompagnerà durante tutte le settimane, sarà comune per tutti i gruppi che verranno e ci aiuterà a dare una opportunità ai ragazzini. Inoltre, nel tema, oggi ho imparato a... Significherà che ogni giorno descriveremo coi ragazzi cosa effettivamente hanno imparato. Questo potrebbe essere una mia aiuta per voi e uno spunto, diciamo, di riflessione e di miglioramento per noi. Per rendere ancora di più ricca la vostra esperienza qui a Scampia, vorremmo chiedervi se state lavorando ad un capitolo. O ad un approfondimento se non siete in un gruppo scavo. In questo modo noi potremo organizzare per voi momenti di condivisione e testimonianze creati ad hoc, in base alle vostre esigenze. Noi vi diamo delle linee guida, ma l'esperienza è la vostra, quindi avete la massima libertà di scegliere ciò che fare o non fare. Mi piacerebbe mantenere un contatto con voi, sia prima che dopo la vostra venuta, affinché ci sia un'esperienza completa nel vostro lavoro.